buongiorno da quanto tempo viene su questa io qui è una vita 4-5 anni da anni così già venivamo prima io sono abituata qua sono cresciuta la quinta stagione 12 euro all'entrata si solo il lettino però costa 12 euro a persona molto caro sui 12 euro quanto vi costa venire qui signora? niente a piacere quanto costa un ombrellona? 2 euro poco Francesco mi porti un cocktail di frutta per favore? grazie acqua dalla fontana questa è gassata e questa è della fontana sono 6 euro per gli alcolici 5 euro per gli aperitivi e 4 euro per gli alcolici 17 euro l'ho congelata e l'ho messa la pasta? la pasta e i maccheroni che abbiamo dato ai piccolini abbiamo portato i maccheroni ce l'hanno mangiato cosa avete portato da mangiare? che cosa? la frittata che frittata? di maccheroni è una vita che hanno visto il quartiere non balleato ma poi signor qua quando erano veramente tosse con nessuna etnina di talzitero di eterni veramente non si potevano fare i banchi 30 anni fa era la spiaggia più bella che c'era sul litorale fregretto lei è del comitato Coroglio? Coroglio sì quindi tutelate questo ambiente? noi cerchiamo di tutelare cerchiamo di pulire il nostro per le famiglie che comunque accedono i figli che non hanno possibilità al proletariato gente che vengono a corruzzoni nei pullman per quanto riguarda la città di Napoli è un caso quasi unico in Italia una metropoli con 3 milioni di abitanti col mare sotto casa quindi è una cosa è un valore aggiunto che abbiamo soltanto noi a Napoli dove vorreste essere? guardate qua in barca avere una barca personale per me uno che è un yacht stare in mezzo al mare è